Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash ed oggi siamo tornati su Super Mario Odyssey, Regno del Mare, andiamo! Regno del Mare, ottima idea, ottimo, ottimo, è ancora ottimo, ok, vai, non so che cosa ci possa essere nel Regno del Mare, Comunque l'episodio precedente siamo stati in New Donk City, forse tra tutti è stato il migliore mondo che abbiamo esplorato, il migliore regno anzi, è stato molto molto divertente. Vabbè comunque ora siamo qui e vediamo che cosa succederà, vediamo un po', comunque il vestito che ha adesso Mario è proprio fantastico secondo me, Quel festival è stato straordinario, però ora è giunto il momento di tornare all'azione, forza, andiamo! Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata? Veloce ha un paio di cose, eh, salta parete, sì grazie, so come si fa il salta parete, Beh, Regno del Mare, c'è un infinito mare di acqua gassata? What? Vabbè, e qui parla anche di quattro grandiose fontane che riversano acqua in una torre, No, no, sembra figo, strano acqua frizzante, mh, ok, vabbè, devo un attimo di prendere solo mano ai controlli, come al solito, Regno del Mare, bollicina, adorabile come nome, ok, bicchiere mezzo vuoto, ah ah, bicchiere mezzo vuoto, Oh mio Dio, cos'è questo? È un polipo che si sta bevendo l'acqua, ok, ci sono tizi lumaca con i baffi, Tu hai l'aria di uno che potrebbe aiutarci, vedi quella mostruosità davanti a noi? Si sta bevendo senza ritegno tutta la nostra preziosa acqua nobile, ti prego aiutaci, ok, Ma sono, non ditemi che sono tipo, oh mio Dio, sono tipo lumache francesi, oh no, lumache francesi, perché? Vabbè, e quindi siamo qui, è un goomba pirata, oh quel sì che è figo, Mi sento, come dire, un po' spaisato con questo vestito, sapete cosa potrei, sarebbe il caso di racimolare soldi per ottenere il costume da bagno? Oh, aia, questo non aiuta, no, non ci riesce, ok, ah, ok, sei un po' fastidioso, Ok, evitiamo di morire, che ne dite? Oh mio Dio, piccioni, eh sì, piccioni, gabbiani volevo dire, non sono esattamente piccioni C'è qualcosa di sopra? Vediamo, aha, t'ho visto E' probabilmente qui Vediamo se Ah, accidenti Ah, ho capito cosa bisogna fare, bisognerà racimolare i goomba Credo, non lo so Comunque, sarà difficile da ottenere quello lì Almeno, spero, almeno, spero di no, però Ok Vai Vai qui, ok Questi non mi piacciono affatto Ok, puoi anche che recuperare la salute Altri goomba, non li vedo Dobbiamo solo stare attenti a questi tizi Ok, vediamo C'è un granchio qui E te What? Ah Oh Ok Questo non lo sapevo Ok, buona saperse Allora, sinceramente, non so Come fare ad ottenere quella Quella roba lì Però so che Mi sa che dobbiamo salire Ok Ottimo Sali ancora Qua c'è solo acqua Oh, non sapevo che potesse fare questo La La culata Hmm Qua c'è qualcosa Vediamo se riesco a fare così Ah, otto Mi sono otto Oh no Sono caduto un po' troppo in giù Hmm Ehi, però guardate cosa ci sono qui Ok Riprova Aia Riprova È difficile Magari mi serve un po' di distanza Ah, per poco Secondo me Riesco a farlo Ok, sì Posso farlo Così Ottimo Vediamo se Qua posso salire così Qui Eh no, non ce la faccio Devo proprio Devo allenarmi molto di più Se voglio fare un salto del genere Ok, no Non sono sabbie mobili Nonostante sembrassero Io sento qualcosa qui Ah, qui No Qui Sento Vibrare il controller Ah, è qui No Lo sento È qui No Qui No Sento Oh, aia Forse più in avanti Si In effetti Sento una continua vibrazione Aspetta, non è che per caso sono questi Non lo so Sì, mi sa che sono quelli E Oh, a proposito Aspetta, devo scendere Perché ho capito una cosa che devo fare Devo racimolare Goomba Ok Devo racimolare Goomba per un semplice motivo Devo fare colpo su quella tizia Goomba E quindi mi serve una colonna Aia Mi serve una colonna abbastanza grossa di Bei Goomba Bei Sexy Goomba Sì, comunque la vibrazione viene dai Eh Oh, attenzione La vibrazione viene da Da questi cosi che rotolano Oh Evitiamo Ok, ho uno di salute Quindi dobbiamo stare un po' attenti Sembra facile Però vi assicuro che non lo è Oh no Mamma mia Ti prego No, dove rotoli? Dove? Rotoli Sono morto Porca miseria Ditemi che rimangono perlomeno lì i Goomba Forse No Partiamo molto male Ok Quindi ora ci riproviamo Mi aspettavo un po' più facile E invece E invece no Ok Molto bene Oh, che figo Questo non sapevo che potessero farlo Che figo Il salto con la Giravolta Non credo però che riesca Oh, lì ci sono i soldi miei Ok Vieni qui Dammi la luna Please Grazie mille Ok Ottimo Amore marittimo Mazzica È stato proprio un amore marittimo Oh Che fail Grazie però per i soldi Ok Eh, questo qui Ok Il mio Dio Al pelo Ok Qua ci sono dei soldi Che Oh mio Dio Prendo volentieri Evitando però di morire Ovviamente Vai Oh Buongiorno Secondo me qui c'è tipo Una luna Gira Eh, vabbè Grazie E quindi Sono riuscito a fare il primo È stato piuttosto di quanto pensassi Ottimo però Il tappo della Qualcosa Non ho letto Sinceramente Ottimo Però siamo riusciti ora A distruggere questo Un pulsante Molto interessante Fa anche un po' rima Oh, un tappo Così Eri arrabbiato Ha 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 I tuoi sforzi sono vani Non cederò mai La mia deliziosa Acqua nobile Ok Oh Ok Sembra che si sia arrabbiato Altre tre fontane Uh, ho capito Cosa mi vuoi far fare Ah ok Si vedono però gli aloni Gli aloni gialli Quindi è un po' più facile Di quanto Di quanto pensassi Speedrun Ora Ora Ok Cos'è questo Non lo so Oh mio dio cos'è Aia Muori Cos'è What Voli Ok B per avanzare Ah ok Poi deve recuperare L'acqua Oh Questo è figo Oh mio dio Davvero non mi fai salire Fino lì E' figo Questo mi piace un sacco Adesso in verità posso fare una cosa Ora che ci penso Vai qui Vai parti Ottimo Eh vai prendila Grazie Ok Il tappo del pilastro Ok è figo questa cosa Praticamente abbiamo un Un jetpack E' abbastanza carina come idea Ok quindi ora Secondo tizio Ottimo Ottimo E bam Un altro tappo Ottimo lavoro Ancora due fontane Ehm Una è lì Che ora però mi chiedo Avete visto Questa è una cosa Era una cosa Quanto figa Ah no Scusa amico Ok Allora Facciamo un po' di Platform con Schivata Degli oggetti Ok 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 Lì c'è Una porta Che mi porta un paio di Ah mi porta Sono spirit Ritoso Aia mi ha colpito lo stesso Nonostante gli sforzi Ok Dov'è l'entrata? Hmm Dov'è l'entrata? E' qui Ah intanto ho visto E' ho visto Peach Gat Che mi dà un cuore Grazie Forse l'ho saltata E' poco più avanti Aia Dov'è? No seriamente Dov'è l'entrata? Era quella lì Dove sono appena stato? Qui? Non sembra No Non è infatti Un'entrata Forse è qui Non lo so Ehi Questo li voglio Corri Ok Magari è qui Giù Ce la fa? Si ce la fa Ok Tunnel sul guacquo Per il faro Ok Ok diventiamo ovviamente Il pesce Che figata Potevo sprintare No però posso creare un tornado Che riesce ad uccidere i nemici Oh Oh no Le murene Oh mio dio Ricordi di Mario 64 Con le murene Oh no Oh no Oh Questo non è bello Gli incubi Oh no Aspè Ah mi ha colpito Ah mi ha colpito Voglio cercare anche Oh Oh mio dio Qua c'è qualcosa Aria Oi Manco per scherzo Non la faccia un po' stupida Se devo essere sincero Vediamo se Così dai Anzi Aspettiamo che Perché io voglio fare una bella foto Magari Perdonerò anche uno di salute Però Voglio fare una buona foto Accidenti Ho sbagliato il tasto Aspè Però tanto qui siamo al sicuro Ecco Ah Sali un po' Ecco Ora questo Mi ha fatto male Non ditemi che non c'era nessuno Comunque Che su Mario 64 Non aveva una paura nera Di questi tizi Ecco Questo è perfetto Ora Così Un po' più Ecco così Perfetto Salva Grazie mille Signora Ora evitiamo solo di morire Immagino che le murene Ancora visto i vu Però io lì vedo un cuore Grazie mille Ottimo 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 Wow Ok Ok Molto bene Molto bene Ok siamo saliti sul faro C'è anche il checkpoint Vai Vai Il tappo del faro Ci manca solo un tappo Non so dove prenderlo Sinceramente però Vabbè Vai Vai con Questo E colpiscilo in faccia Ottimo Ancora una fontana Che sta lì A proposito E mi sa che lì Ah Non ci è riuscito Ce l'avrei sperato però Ok sali Prima di morire Soffocato Posso camminare sul Oh che figo Posso camminare sull'acqua Sì magari Riuscissi anche a prendere questi Prendi questo È troppo bello È un po' difficile da controllare Se devo essere sincero Parla con lui Ah devo parlare con lei Forse Sì Ok Oddio Sei bellissima Oh Oh mio Dio Se costano Costate parecchio Vorrei tanto però Il cappello E la divisa da marinaio Così assomiglia Gioske Di Di Gio Gio Lion Non vi do so però Lo rendissero più tordi Più tordi Più tardi Ok 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 Salto Ah accidenti Ok Quindi ora Devo salire qui Questa è lava Ah Oh Oh ho capito Basta fare questo Forse Forse Aspetta Un'idea più efficace Fai così E fai così Ottimo L'importante è che non perdi acqua in questo momento Dov'è il checkpoint? Ok Recupera l'acqua Magari devo Oh Aia Beh Qui un po' d'acqua La sta creando Magari devo Tipo Fare una cosa del genere No Così non becco niente Aia Ok Comunque Ce la sto quasi facendo Forse Ok Provarò con questo Ok Ok Posso andare giù? Sì Eccola lì Molto meno Eh molto meno Molto bene Cosa meno? E questo è stato il quarto Ok Ci mancano solo quattro lune? Ah Poco Ottimo E si è tolta anche tutta la lava Meno male Era Possiamo dire un bel fastidio Ok Non cadere Grazie Ok E questo è quindi l'ultimo tappo Ora si infuria Ok Ora è arrabbiato Oh è morto? No non è morto Dai No non è morto Ha solo un grosso mal di testa Ok Sei figo Lo devo ammettere Sei figo Allora Hmm No tu mi spari i cosi Oh mio dio Ce l'ho fatta Oh mio dio Lo stavo quasi per fare due volte Sarebbe stata la cosa più bella della mia vita Allora quindi Tu come ti faccio ad affrontare? Ah ho capito Vieni qui E tu No Ah porca Che culo Ok Tu vieni qui Ehi Cosa volevi fare? Oh Quari extra Grazie Non osare Ok Quindi immagino che ti debba colpire con l'acqua Dove sei? Dov'è? Eccolo lì Vai davanti Sali Ah si Ok E' figo Questa buona site è carina Ok Ah e ora dobbiamo solo aspettare che faccia la sua roba Dove fa un bel po' di casino Wow Se scuoto fa questo Figo E mo? Eh devo dargli una batosta Ok Ah ora esplodono questi Vieni qui No Credo di non aver azzeccato Ok Sali Ok Hmm Pensa Cosa potrei fare ora? Hmm Hmm Ok 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 Non è difficile E' un po' strano Però non è difficile Aia Ok Riproviamo Dove sei? Dov'è? No No seriamente Dove è andato a finire? Non lo vedo Hmm Dove cavolo è finito? Seriamente ragazzi? Mi sei scomparso? Tanto ora accogli questi Perché male non fanno Ah è lì? Non si sta Facendo I cavoli suoi Ok Già che ci siamo Fai questo Ok Sbrigati però Cioè Questo boss è strano Ok Ok Ora raccogli quello lì Ottimo E ora sali Quindi Dove essi cacciato? Lo sento Lo sento però Eccolo lì Vai Quello è un missile Non lo so Cosa fa Eh no Non è Pensavo fosse tipo un missile a ricerca o qualcosa del genere Non esattamente a quanto pare Oh no Pessimo tempismo Ok Oh no Sali Ah Sali 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 Non è che Aspetta un attimo Non è che per caso No Li posso alterare a distruggere Ok Oh non l'ho beccato Porca miseria Dai riproviamoci allora Mamma mia È difficile Ok Vieni qui Bell'uomo Ok 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 l'ho ucciso Mamma mia Se era un bostosto eh E però almeno sei esploso Incredibile La ferna ha fatto esplodere un polpo Poverino Ma neanche tanto Che vada un po' a Farsi benedire Ottimo Bella fontana comunque E vai con La raccolta di questa Triluna Molto bene E credo che con queste Tre lune Riusciremo anche Ad uscire subito Da questo posto Cioè è strano Cioè è strano Servono veramente poche lune Certo che però se Che splendido tramonto Senza contare che le fontane E l'acqua nobile Sono Tornate ai legittimi proprietari Tutti noi Sembra che Bowser Non si trovi più in questo regno Dobbiamo dirigerci Verso la nostra prossima tappa Ok Ci manca Una luna Una Dove cavolo Potrà mai essere Vediamo se le Lasciamo a trovare Magari Sarà Sicuramente Sott'acqua Non l'ho esplorato Per niente Il fondale Marino Ok Vediamo Una luna Semplice Magari qui dentro Vediamo Ok Oh questo è strano Tanto Oh Oh no Un labirinto Oh un labirinto Aia Mi fa fare salto Ah si che mi fa fare salto Oh mio Dio Ok vai E' molto strano Soprattutto vedere i pesci Che mi vanno sopra E' proprio E' proprio strano Hmm Qua come faccio Scusa Hmm No seriamente Come faccio Posso raccoglierlo No non posso Come cavolo Pretendi di farmelo fare Hmm In effetti ci sono più di uno Magari Di Di tubi Intendo Magari è in questo qui Dove devo andare Dove Azzeccare Quello giusto Forse Ok mi ha portato Qui sopra Grazie per i soldi Tutti questi sono Si possono distruggere Ah ok Quindi Non è neanche questo qui Magari allora questo Crociando le dita Magari Ehm No Però 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 Posso fare questo Questo farà un po' di casini Forse Beh se non Tanti casini Sicuramente ci ha aperto Un passaggio utile Intanto Vediamo Ok Questo dove ci porta Ci porta sotto Non riesco a vedere Lì ci sono dei soldi Però eh Quindi magari Ah ok Ehi luna Ok Rapparappa Ottimo Ora siamo pronti Ad andare Ah questa qui si creava dopo Ok fantastico Molto bene Quindi adesso Ci spostiamo di lì Ok 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 Rotola come un Un pazzo Eh si rotola però Eh che cavolo Ok Non sono tante però Sono sufficienti Molto bene Lì c'era una Ah si è vero Era quella mezzaluna Che non Che non avevo ancora capito Come fare a prendere E vabbè comunque Odisse è stata potenziata Yes E quindi immagino Che ora si andrà Nell'altro regno Regno delle nevi Ok Però direi che Per questo episodio È tutto Quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Se lo avete ancora fatto Iscrivetevi A tutti gli altri canali correlati Condividete il video Se vi è piaciuto Mi raccomando ragazzi E quindi noi Ci vediamo in un prossimo video Un saluto salato E ciao Ciao Grazie a tutti.